E' impossibile trovare le parole per descrivere ciò che significa l'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna farsi amico l'orrore. Mio Dio, che genio c'è in questo, che genio, che volontà per far questo. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. Se io avessi dieci divisioni di questi uomini, i nostri problemi qui si risolverebbero molto rapidamente. Bisogna avere uomini con un senso morale, ma che allo stesso tempo siano capaci di utilizzare i loro primordiali istinti. Senza emozioni, senza passione, senza discernimento, senza discernimento. Perché il voler giudicare è che ci sconfigge. L'orrore 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 L'orrore